Le abbiamo trovate, le abbiamo trovate, ciao ragazze, stiamo cercando la sposa Sono io, ciao Eccola qua, è la sposa, è la sposa Eeeh, fammi la faccia la sposa Questa è la tipica, ecco, dici, un'amica, no, l'amica ha messo un consiglio durante, durante, hai notato? Non so, è la cucumera, non so È una cucumera, vieni, avviciniamoci, entriamo nel locale, vieni, avviciniamoci perché sai dove ti porto? A fare l'aperitivo? Oh, meno male Sei contenta? Bravo Perché E no, quindi andiamo, 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 andiamo insieme alla sposa a fare l'aperitivo, vieni Mr. Dave E no, hai visto la sposa col bicchiere vuoto Ma chiediamola qualcosa alla sposa, Natta, o che ti chiami? Sabina Da dove vieni? Luino, provincia di Varese, lago Maggiore Oh no, dal lago Luino Sei proprio sopra il lago, così che È vicino Sì E come hai fatto a contrarlo, il tuo lui? Eh, al mare, che pensa Una del lago che lo incontra al mare? Hai visto, l'uomo di mare ho preso Un uomo di mare? Ho preso il marinaio? No, far cuoco Far cuoco al mare? No, adesso è su, in Svizzera Far cuoco in Svizzera Far cuoco in Svizzera Quindi lui è specializzato nella pasta Di dov'è, di dov'è Io pensavo una cosa che Di novenna, romagnolo Di novenna, romagnolo Io pensavo fosse specializzato nella mare e monti Perché è passato dai mari ai monti Eh Dave, questa, ti è piaciuta questa? Bravo, bravo Gliela dici quando lo vedi? Bravo, ci piace, bravo Ci piace? Che bello, che bello A me è piaciuta questa cosa Ok, allora, cosa ti ha colpito di lui? Tutto, tutto è bello e bravo, tutto Oltre la pasta mariemonte Oltre la pasta mariemonte Esatto Il fritto misto Il fritto misto, come ti frigge lui Ma ti impana anche? No, no No, niente, ok Perfetto Eh, ma spiegami un attimo Ma vediamo o no? Ah già, hai ragione Hai ragione Le amiche ti hanno lasciato calmonosamente E allora abbandoniamola anche noi E andiamo a bere così Tipo, guarda, gira, ti saluta la telecamera Ciao, non andiamo a bere Ciao Eccolo qua Vieni Ciao